Ci mettiamo all'opera? Io mi faccio un sonnellino Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno Dall'Alaska all'Argentina in Ban Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio Dopo due anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa Tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote Ormai è passato un mese da quando abbiamo cominciato i lavori Negli episodi precedenti abbiamo realizzato il pianale, insonorizzato le parti più rumorose del van E avviato i lavori di isolamento termico, una lavorazione importantissima per la nostra vita in van Oltre agli interni ci stiamo dedicando anche alla carrozzeria Perché presto sarà tempo di cambiare il colore del van Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi finiremo l'isolamento termico Vi faremo vedere l'ultimo materiale che utilizzeremo Per chiudere questa parte veramente molto complicata Ma allo stesso tempo divertente Vi faremo vedere la conversione del nostro Ducato che c'è qui alle mie spalle Che presto verrà verniciato Prima di finire l'isolamento termico andrò a finire di far passare tutti i cavi e cavetti Qui nei montanti del furgone Tra cui anche i tubi dell'acqua fredda e dell'acqua calda Tra un pannello e l'altro vi faccio vedere dove andrò a posizionare la caldaia Che sarà praticamente in questa posizione qui Vicino alla pompa dell'acqua E dove poi qua ci sarà il lavandino Andrò a installare i tubi Da questo punto Li farò arrivare dall'altra parte Per andare in bagno Allora non è stato per niente un lavoro facile Anche perché dovevo trovare la via esatta Per far passare questi tubi Che sono vedete sono abbastanza rigidi Perché passandoci anche acqua calda Devono tenere comunque la temperatura del boiler Quindi sono tubi particolari per camper Fatti apposta E abbiamo trovato una via abbastanza buona Ve la faccio vedere Da qui che sarà il bagno I tubi salgono così in questo modo Fanno questo giro E poi vanno a finire giù di qua E' la prima volta che metto i tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda Non ho visto nessun video Ma così da una mia idea Mi è venuto in mente di far passare i tubi All'interno dell'isolamento E non a contatto con la lamiera Perché potevo farli passare anche all'interno dei montanti Li ho messi in questo modo Perché poi quando andrò a mettere i pannelli Qui verrà schiumato E quindi si eviterà appunto che i tubi possano ghiacciare Se hai contatto con la lamiera Che non è isolata Qui terminano i tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda Che evidentemente saranno attaccati al boiler qui E qui ci sarà la pompa E da lì ci sarà l'uscita per la doccia Quindi qui ci sarà il miscelatore E la doccia dovrebbe essere qua Fatto tutto ciò Adesso possiamo continuare a realizzare l'isolamento termico In particolare a completare il tetto Escluso ovviamente le zone dove poi andremo a montare gli oblo Quando arriveranno Per il tetto utilizzeremo degli XPS Pannelli di XPS Che si usano anche nelle costruzioni Da 2 cm questa volta Quindi andiamo a sfruttare praticamente questo spazio Che c'è tra i montanti Non so se si vede Ecco Che è giusto di 2 cm Quindi andremo ad applicare il pannello Proprio in questa zona Oggi piove E quindi ci siamo dovuti arrangiare in qualche modo Perché siamo sempre sulla strada Non abbiamo il box Carlo ha portato questa fantastica luce E poi lo scaldino del bagno Che ci sta salvando dal freddo milanese di novembre Eccolo qui E infatti fa un bel calduccio Che sono addirittura in maniche corte E si lavora anche sotto la pioggia Adesso inizieremo a tagliare un po' l'eccesso Di schiuma poliuretanica Che è in eccesso Col taglierino Che è un lavoro che a me piace tantissimo Perché sembra veramente panna montata Che viene tagliata Ed è morbidissima infatti Guardate come viene via Vengono via proprio i pezzettoni di schiuma È troppo divertente Così livelliamo un po' tutto E finiamo di mettere gli ultimi pannelli E questo è il tuo lavoro preferito praticamente Esatto È troppo divertente Non sappi che ce ne sarà un sacco da togliere Sono solo calice Vedete Vedete qui ormai abbiamo ultimato Tutto ciò che si poteva ultimare Abbiamo lasciato questi spazi Perché qui verranno le finestre E isoleremo dopo Mentre qui adesso metteremo l'isolante Che vi faremo vedere Anche da questa parte E qui E qui Verranno due buchi Quindi rispettivamente Presa elettrica Di qua E presa dell'acqua Da questa parte Adesso sto aspettando Serena Che mi sta portando L'ultimo materiale Che è appena arrivato ieri Che è L'Armaflex ragazzi L'Armaflex al pari di altri materiali Che abbiamo utilizzato È un materiale isolante E viene utilizzato principalmente Per rivestire le tubazioni dell'acqua calda Per evitare perdite di calore E quindi per consumare meno Noi la dopereremo nel nostro frugone Perché è un materiale che ci viene molto comodo Per quelle superfici curve Dove i pannelli purtroppo non sono consigliabili Ma allora voi mi direte Ma non potevi isolarlo tutto con l'Armaflex? Sì Però costa di più Infatti la differenza di prezzo Che c'è tra questo materiale Che è l'XPS È di circa 5 volte Il materiale che andremo a mettere In questo punto E in quanto caratteristiche di conducibilità termica Siamo abbastanza vicini Perché adesso non ricordo bene Ma Armaflex e XPS Hanno dei coefficienti abbastanza vicini Noi abbiamo utilizzato questi materiali Perché ci sembrava più comodo Adesso aspetto Serena Che è andata a prendere il rotolo Ecco qua ragazzi Si comincia con l'Armaflex Tappeto nero di Armiflex Prego entri Ecco si accomodi Il black carpet di Milano Ma è morbidissimo Bello Sì può usare come materasto Abbiamo il letto anche Comodo? Comodo? È morbido Lo useremo per isolare bene i passaruote Perché è una superficie curva E con i pannelli ovviamente non si riesce Quindi useremo questo bellissimo materiale Ed è la prima volta che lo prendiamo È adesivo Quindi basta solo tagliare la forma che serve E incollarlo E inoltre come vi dicevo Lo utilizzeremo qui Sulla testata E sulla piediera Se si chiama così Del letto Perché ovviamente Dobbiamo guadagnare centimetri Per la mia altezza Ci mettiamo all'opera? Io mi faccio un sonnellino Ti faccio un sonnellino Vai buonanotte Poi c'è pure lo schienale qua Eh sì Ma lo puoi usare per fare gli esercizi Allora abbiamo appena montato il materiale Che devo dire Super Feedback positivo Sembra veramente un cuscino È morbido Facile da installare Veramente Se non costasse così tanto Probabilmente l'avremmo fatto tutto così Però sono cinque volte di più Quindi Uno deve fare le sue scelte Adesso facciamo l'altro E poi La zona letto Comunque siamo qui dal carrozziere Che ci sta dando una mano A riparare Quello che sarà La nostra casa su ruote Oggi ci tocca Cambiare questo pezzo qui Che è leggermente indentro Perché il muletto Ci è andato a sbattere E ovviamente ci stiamo facendo aiutare Perfetto Perfetto ecco adesso stiamo mettendo il pezzo nuovo che è questo qua si incastra bene perché nessun ha fatto la magia se no qua c'è da poco da piangere come si chiama questo prezzo che stai usando il carrozzeria lo chiamiamo tirapalle tirapalle adesso andiamo a saldare abbiamo chiuso anche questo piccolo buchino qua stiamo facendo un gioco tagliottusci allora sono tornato alla carrozziere adesso vi faccio vedere come è diventato la parte che c'è sotto il portellone ecco vedete è completamente nuova gli abbiamo dato una mano di fondo poi puliremo per bene tutto e riverniceremo comunque vorrei fare veramente anche i complimenti a carlo che è diventato carrozziere ha fatto un lavoro incredibile poi vedremo se reggerà ma penso proprio di sì perché è un lavoro fatto benissimo ci ha messo tanto e infatti si vede il risultato questo pezzo del van era completamente distrutto era veramente messo malissimo guardate che lavoro che ha fatto ecco qua direi che carlo ha un futuro come carrozziere infatti le persone che passano nella via si fermano dobbiamo dire grazie al nonno di serena e anche al carrozziere nelson che poi rincontreremo perché ragazzi noi settimana prossima lo mandiamo nel forno al van lo coloriamo li cambiamo ancora un po indecisi su due colori infatti li possiamo anche mettere così facciamo un piccolo sondaggio diteci un po se lo volete di questo colore qua oppure di quest'altro colore qua fateci sapere perché la vostra opinione importante siamo un po indecisi perché ci piaceva tantissimo il colore di prima però vogliamo anche fare qualcosa di diverso ci piacciono i cambiamenti quindi vogliamo anche fare qualcosa di diverso intanto vi facciamo vedere l'isolamento abbastanza finito direi quasi terminato sì 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 è finito abbiamo fatto veramente un mix di isolamenti diversi abbiamo fatto le pareti laterali pannelli da quattro centimetri il soffitto due centimetri un po di arma flex sui lati per non perdere troppo spazio perché lì ci va il letto schiuma dappertutto come potete vedere che è il nostro cavallo di battaglia c'è un po dappertutto vedete il soffitto ormai è completamente isolato lì ci andranno le oblò abbiamo preso le perline è arrivata la finestra una delle finestre che metteremo quella laterale poi ve la faremo vedere nei dettagli poi ragazzi cosa importante secondo me è che qui ci sono i tubi dell'acqua calda acqua fredda li ho praticamente isolati con la schiuma in tutto il loro percorso così evitiamo almeno una parte di condensa quando ci sarà l'acqua calda poi tra un po toglieremo anche il divisorio ovviamente questo è già in programma faremo una parete adesso dobbiamo ancora studiarla bene quindi finalmente abbiamo finito di isolare tra un po inizieremo col colore dell'esterno le finestre e poi c'è tutto il rivestimento da fare un rivestimento che sarà in legno il lavoro è lunghissimo noi ci stiamo appassionando è veramente veramente bello ed ha una soddisfazione incredibile comunque questo video finisce qui ci vediamo presto con un nuovo video con i nuovi aggiornamenti chissà se il nuovo furgone sarà già colorato dell'altro colore non credo secondo me tra un paio di video lo vedremo colorato